Come potete immaginare, mi è capitato altre volte di porre il saluto iniziale in varie occasioni, ma oggi credetemi sono emozionato, sono particolarmente emozionato. Sarà perché siamo qui e io sono qui in doppia veste, cioè quella di rettore della Nobile Contrata del Bruco, che sente davvero la responsabilità e l'onore di ospitare un evento così prestigioso, e la veste di quella del Presidente del Consorzio per la Sotella del Palio, che invece sente l'orgoglio di rappresentare un'istituzione dal cuore senese. Ma l'emozione dipende anche dal fatto di essere semplicemente qui, tutti insieme, e verrebbe da dire quasi incredibilmente, uniti a condividere con animo di ciassettino, stasera ne sono convinto, la nostra storia e le nostre tradizioni, che con quest'area di ripartenza che stiamo fortunatamente respirando, ci danno il senso della continuità e la consapevolezza che i nostri valori più unici e rari sono ancora più saldi. E c'è anche la soddisfazione di poter dire, avendolo davvero toccato con mano, che le contrade tutte si sono dimostrate, anzi si sono confermate, in questo periodo difficile ed eccezionale, una straordinaria realtà, le cui fondamenta sono costruite su un sistema di valori inossidabili, quali il civismo, la solidarietà, il senso di responsabilità e il rispetto delle regole, scritte e non scritte. Quindi oggi più che mai il mio indirizzo di saluto a tutti voi è ancora più caloroso e sentito del solito. In particolare un benvenuto a sua eccellenza il prefetto dottoressa Maria Forte che oggi abbiamo il piacere di ospitare per la prima volta. Bentornato al questore, dottor Costantino Capuano che invece abbiamo avuto il piacere di riavere qui nei nostri giardini. Un buon pomeriggio, una buona serata, infine a tutte le autorità civili e militari, presenti ai miei colleghi priori che, devo sottolineare, mi piace sottolineare, hanno stato qui stasera in veste soprattutto di soci del Consorzio. La ragione di questa iniziativa sta nel fatto che abbiamo ritenuto di celebrare come merita l'attività tanto preziosa quanto oscura ai più del Consorzio, costituito nel lontano 22 giugno 1981. Un riconoscimento quindi e un ringraziamento, in sostanza, a tutti coloro che in questi decenni si sono prodigati nel nome della tutela dei valori della nostra festa. Molti di loro sono qui grazie di cuore da Senese e da Contraiolo. Le celebrazioni prevedano, oltre a tavola rotonda a cui stiamo per assistere a altre due iniziative che si svolgeranno in tempi successivi e in date e in modi ancora da definire. Si tratta di una mostra che ripercorrerà l'utilizzo che è stato fatto dell'immagine del palio delle nostre contrade per fini commerciali e turistici sin dall'inizio del secolo scorso, del Novecento, fino alla nascita appunto del Consorzio stesso per comprendere le motivazioni che hanno portato a questa Costituzione. E poi un altro evento importante, si tratta di un concerto organizzato dall'Accademia Chigiana e per la quale ringrazio di cuore il suo presidente dottor Carlo Rossi. L'intento di quest'ultima iniziativa infatti è quella di rinsaldare, di rinnovare il legame storico tra il mondo delle contrade e l'Accademia stessa, legame testimoniato dal ruolo svolto dal suo fondatore, il conte Guido Higi Saracini, che nel secolo scorso fu per quasi 40 anni addirittura anche rettore del magistrato. Veniamo però all'iniziativa di oggi per la quale il ringraziamento va agli amici che saliranno sul palco, che si sono resi disponibili a ricostruire secondo le proprie esperienze dirette e personali, con il corredo, lo ascolterete, di diversi aneddoti curiosi, l'evoluzione del consorzio. Non mi resta che passare il microfono a Annalisa Bruchi, ho l'onore anzi di far salire su questo palco Annalisa Bruchi, anche lei in doppia veste di Senese e di stimata giornalista Rai e che ringrazio sinceramente per la sua disponibilità. Abbiamo l'onore appunto di avere la voce del palio da vivo, non è poco e quindi... Grazie, grazie Presidente, grazie a tutti voi, l'emozione qua stasera la fa da padrona perché devo dire che quando sono stata contattata per sapere di questa iniziativa io ho detto subito di sì, a prescindere dalla data, perché il palio mi manca, mi manca tantissimo, mi manca a tutti noi e perché l'iniziativa è molto importante. Io devo essere sincera, ho conosciuto il consorzio tardi, nel senso io sono andata via da Siena ormai da tanti anni, il consorzio era nato non da tanto, ma non sapevo bene che cosa fosse, cos'è il consorzio, cosa fa, qual è l'utilità, cioè l'ho scoperto meglio e ho scoperto la validità incredibile di questo strumento per tutelare, come dice il tema, il nostro palio, il nostro simbolo, la nostra storia, l'ho scoperto quando mi hanno chiesto di fare la telecronaca del palio di Siena e quindi oggi è importantissimo perché? Perché capiremo perché nasce, come nasce, quali sono le finalità e soprattutto faremo un po' un punto anche sul futuro, noi siamo in una società in cui si cambia rapidamente le immagini, la comunicazione, il web, quindi cosa può fare il consorzio? Può fare tantissimo, lo racconteranno i protagonisti, voglio subito invitare sul palco i relatori, vi chiamo tutti se potete intanto avvicinarvi, cominciamo con l'avvocato Roberto Martinelli, uno prego avvocato si accomodi, uno dei costituenti del consorzio che ci dirà un po' le origini, ci racconterà, prego, prego si accomoda qui vicino a me, l'avvocato Comporti, Gianni Comporti, professore Vieni, dello studio Comporti, il suo papà Marco ha fatto tantissimo, sedetevi, sedetevi tutti, mi prego, poi l'avvocato Michele Allegro, ecco, che è dello studio romano del cui il consorzio si appoggia, come vedete molti avvocati, capirete perché sono così importanti gli avvocati all'interno del consorzio, sono fondamentali, poi chiaramente Anna Carli e Senio Sensi, ex amministratore delegato rispettivamente del marchio della comunicazione e delle immagini. Allora, prego, prego, accomodatevi, voglio Anna Carli vicino a me, facciamo le donne al centro, per una volta ogni tanto vedo un po' che donne, sono contenta che ci sia un prefetto donna, la saluto e le do il benvenuto in questa bellissima città. Allora, no, stavamo dicendo, che cosa fa il consorzio, no? Il presidente ha parlato di questa attività oscura e più, in realtà è vero, è oscura e più, presidente, però vediamo com'è che nasce, le motivazioni, un po' le origini di questo consorzio, 40 anni fa, chiedo subito a Roberto, l'avvocato Martinelli, che appunto, questi avvocati sono pieni di carte, vedo qui, ve le portate sempre dietro, andiamo a braccio, anzi questa voglio, deve essere una chiacchierata, una chiacchierata tra amici, perché poi qui vedo molti di voi, insomma siete tutti addetti ai lavori, molti, a parte le autorità presenti, abbiamo, dove sarà finito? Andiamo a braccio, avvocato, Roberto, ieri al telefono ci siamo sentiti, mi hai detto di tutto, di più, mi hai detto, eccoci. No, no, vada solo, vada solo, microfono dirigente. Pronto, allora, buonasera a tutti, come e perché è nato il consorzio? Partiamo da una constatazione, direi semplice, banale e da definire in modo altrettanto semplice. Il Palio di Siena è un qualcosa che ha sempre attirato l'attenzione, anche perché è un qualcosa che, se guardato con un attimo pulito, è un qualcosa che attraversa la mente e giunge direttamente al cuore. Ora, per non andare molto lontano nel tempo e per restare a quello che è il tema di stasera, cioè la tutela, ricordo due episodi che mostrano come anche il regime fascista abbia riconosciuto nel Palio di Siena la forza delle tradizioni locali e che lo abbia anche tutelato nella sua identità. Due episodi. Primo episodio, siamo nel 1931-1932, sotto gli evidenti auspici del regime esce il film di Alessandro Blasetti dal titolo Il Palio, non Il Palio di Siena, non Il Palio delle contratti, Il Palio. Con questo volendosi dire che Il Palio è quello di Siena. La nazione 11 giugno 1935, le disposizioni del duce in difesa della festa del Palio. Siamo qui per parlare di tutela. La sua eccellenza, il prefetto della provincia, è pervenuta ieri la comunicazione seguente. Al Podestà di Siena, per opportuna notizia della signoria vostra illustrissima, si comunica che il Ministero dell'Interno ha disposto perché alle consuetudinarie manifestazioni di Legnano per la festa del Carroccio, d'Asti per la festa dei Troni e di Ferrara per la festa di San Giorgio, non sia attribuita la denominazione di Palio, dovendo questa intendersi riservata alle tradizionali manifestazioni che si effettuano in codesto capologuo. Quindi una difesa del Palio al massimo livello politico. Nel dopoguerra continuano i rapporti del Palio con il cinema, non sempre rapporti efficaci. Ci sono le fantastiche radiocronache dei Silvio Cilli e poi arriva la televisione. Quindi cosa succede? Succede che il Palio diventa sempre più oggetto di limitazioni, di scimmiottamenti, di deformazioni e anche di erronea informazione. C'è una reazione naturalmente a livello locale, ma come si dice anche nei primi anni del Consorzio, la tutela si ottiene più con il consenso che con il diritto. Cioè dobbiamo trovare un accordo perché ancora non c'erano le basi riconosciute per una difesa in termini di diritto. Poi si arriva a quello che probabilmente possiamo chiamare il fatto che fa esplodere qualche cosa. Il fatto che obbliga ad una difesa più efficace. Il fatto è una cartolina. È una semplice cartolina che un amico del mio amico tamburino, Brunetto Golini, gli manda, gli manda una cartolina che perviene da Asti e gli domanda, caro Brunetto, ma quando è che ti hai mai fatto e sei partecipato al Palio di Asti? Perché cosa era successo? Era successo che c'era una cartolina dove si vedeva Brunetto come tamburino di piazza, si vedeva che era il Palio di Siena, ma la montura non aveva colori giusti, i colori della chiocciola, come era il tamburino della chiocciola e soprattutto si diceva Asti Medioevale. Ecco vediamo le immagini della vicenda. Asti Medioevale. E qui allora sotto la difesa del grande professor Mario Comporti, non solo Brunetto, non solo la contrada della chiocciola, ma il magistrato delle contrade, poi intervenne anche il comune di Siena, fu fatta una causa giudiziale che poi illustrerà naturalmente il professor Comporti qui alla mia destra, ma che comunque si chiuse con una transazione che sostanzialmente riconosceva i buoni diritti di Siena. Nel 78 altro momento importante, l'incontro organizzato tra comune e magistrato delle contrade, contrade e territorio. Il professor Marco Comporti che già aveva studiato la faccenda, è interessato al magistrato, fa un intervento chiarissimo anche nel suo titolo, la tutela degli stemmi, degli emblemi, dei colori delle contrade. E lancia l'idea di un organismo societario fatto fra le contrade di Siena per la tutela di questi stemmi e di questi colori e prevedendo anche la possibilità di una produzione e commercializzazione improprio da parte del mondo contradiolo. Quindi l'idea è lanciata, ha preso la sua dimensione, la sua motivazione, ed ecco che si arriva quindi alla data del 22 di giugno del 1981, quando le 17 contrade, a rogito del notario Ginanneschi, costituiscono il Consorzio per la tutela del Paglio di Siena sotto forma di una società cooperativa a responsabilità limitata. non fu, sembra detto così, fu abbastanza, appare abbastanza semplice, ma non fu, anche la stessa Costituzione e poi purtroppo nei primi anni della vita del Consorzio non fu semplice affatto. Il Reginald Pasqui, priori della lupa e primo Presidente del Consorzio, quando nel 1992 fu organizzato qualcosa di molto simile a questo, cioè un convegno per ricordare i primi dieci anni del Consorzio, prese la parola e scriveva in questo modo, sentite un po', dieci anni dopo, posso assicurarvi che quella di costituire il Consorzio fu una decisione tutt'altro che ordinaria, deve essere premesso che anche allora, quindi anche allora 1981, ma scrivendo anche allora, voleva dire che insomma anche nel 1992 quando parlava, il magistrato delle contrade non aveva vita facile. Secondo consuetudini ed usi senesi erano più le critiche destinate a viecchetti del tempo, cioè ai priori, che non i consensi. Tuttavia nonostante questo esisteva un'evidente spinta di fatti nuovi che induceva a ricercare strumenti amministrativi ed operativi, snelli e concreti. Due parole su questa frase del ragione del Pasque. I vecchietti così venivano considerati molti priori perché avevano una loro età non certamente matusalemmica, ma abbastanza da avere una differenziazione fra la popolarità dei fatti. erano chiamati i vecchietti, ma questi vecchietti avevano il nome dei commentatori Appini, dei ragionieri Pasqui, di Tanganelli, di Trapassi, di Giannini. Me ne scordo, non me ne sto scordando, me ne sto scordando qualcuno, ma volevo dire erano vecchietti che hanno fatto la storia del Palio, quindi forse lo diceva in termini eronici, ma era gente che sapeva cosa doveva fare. Ecco, questo è un po' il momento della nascita del Consorzio che poi abbia la sua vita, i suoi problemi dei rapporti, ma non solo con l'esterno della città, ma soprattutto con l'interno della città, col magistrato, con le singole contrate, sembra incredibile, ma così è. Grazie, grazie Avvocato Martinelli, ecco ricordiamolo perché i soci del Consorzio sono le 17 contrate, quindi non è un ente terzo, cioè questo è qualcosa importante, credo, da ricordare, ma un ente dei contradaioli e quindi è per questo che noi siamo qua, per farlo sentire ancora più loro e per cercare di far capire qual è l'utilità di questo consorzio. Ecco, a me quando poi si dice di vecchietti non mi piace, mi ricordo gli arzilli vecchietti di cui si parlava, dei salotti buoni della politica e della finanza, comunque averne, no? Di arzilli vecchietti in quel modo, comunque ad averne. La cosa che mi ha colpito finora è che nella prima parte, diciamo, fino agli anni, fino agli anni 90 in generale, anche quando era stato creato il Consorzio, la parola che si utilizzava molto era difesa, no? La difesa del palio, la difesa delle contrade, la difesa dei colori, la difesa. Poi dopo vedremo, ci sarà un certo momento un cambiamento, però e la difesa aveva un nome in questa fase, quella di Mario Comporti, quindi do la, Marco Comporti, scusa, do la parola al professor Gianni Comporti che ci racconta un po' un escursus, perché lo studio appunto è quello storico che ha seguito i casi che ha citato l'avvocato Martinelli e anche molti altri. Grazie, grazie Annalisa, grazie a tutti per questa bella occasione di riflessione, perché quella che stiamo tutto sommato celebrando oggi è la storia di un'idea, la storia di un'idea che ha avuto una lunga gestazione. Ora l'avvocato Martinelli ha già detto tante cose, tante cose significative, ma anche una storia di vitalità associativa. Vorrei fare qualche flash anche tornando al passato, perché bisogna ricordare anche il 1951 un'iniziativa, il Comitato degli Amici del Palio, che riuniscono nella sala dell'Accademia degli Intronati sotto la presidenza di Achille Mazzoldi, anche io ricorderò qualche vecchietto perché sono importanti, riunì una grande riunione a invito di tutti i contradaioli che avvertivano un problema e il problema già dagli anni 50 era quello, oltre allo spopolamento del centro storico, oltre all'astenia nell'educazione dei cittini, si leggeva testualmente, c'era il diffondersi in progressione geometrica di manifestazioni di plagio, già dagli anni 50. Quindi fu creata sotto, intervennero anche il conteghi Chigi Saracini, Claudio Coli, Muzio Massoni e altri, furono create delle commissioni di studio, tra queste una commissione per la tutela giuridica del Palio e le Contrade, diretta in qualche modo da un altro avvocato che voglio ricordare, un chiocciolino, molto si deve alla chiocciola di queste vicende, l'avvocato Alberto Tailetti, il quale propose già allora delle idee di tutela. Tuteliamoci contro questa diffusione incontrollata di che cosa? Il problema è come tutelare qualche cosa che appartiene a un ente morale, cioè non a una persona fisica. La persona fisica ha la tutela del nome, ma come si tutelano aspetti di un ente morale, di una persona giuridica, di un'entità immateriale che non ha solo un nome, ma ha anche emblemi, colori, eccetera, eccetera. E di qui nasce questa idea seminale di applicare la tutela delle persone fisiche alla tutela di soggetti che persone fisiche non sono. Quindi è una prospettiva di lungo periodo. Per esempio, il congresso famoso del 78, il primo grande congresso in cui si portarono queste idee, fu definito da alcuni come un convegno di qualità, un fondo di Guido Iappini, che era allora il rettore del magistrato delle contrade. Ma la voce popolare era un po' in dissenso con questa visione. Parlava del congressone, un congressone dove si sono fatte tante parole, ma pochi fatti. Tant'è vero che anche gli atti uscirono in ritardo di qualche anno rispetto a quei giorni del 20-22 ottobre del 78. Quindi una dialettica, una dialettica naturale. Non bisogna spaventarsi della dialettica. La dialettica è l'ambiente naturale dove crescono e germogliano le idee. E poi un altro dato vorrei ricordare, prima di venire a altri fatti più concreti. Cioè, a me chiedete il processo, ma mi piace parlare anche di altre cose, perché il processo nasce in un contesto sociale senza il quale non è altro che carta bollata. Cioè, non significa nulla. E quindi, per esempio, è significativa la mancata adesione dell'amministrazione comunale. All'epoca era il sindaco Mauro Barni, un'altra figura che penso meriti di essere ricordata. Che deliberò l'8 giugno del 1981 di non partecipare alla costituzione del consorzio. Perché? Non è un atto di indifferenza, perché il Comune è andato sempre in sintonia, almeno con le iniziative giudiziarie, di cui poi dirò appena qualche cosa. Ma è un atto di grande consapevolezza istituzionale, perché nella lettera, nella nota del 18 giugno dell'81, si sottolineava la necessità di rispettare il tradizionale porsi delle contrade come vitali espressioni istituzionali di antico diritto. Quindi capaci di far da sé, capaci di rappresentare autonomamente le istanze delle collettività sociali e di portarla avanti con mezzi e con circuiti di legittimazione anche diversi e necessariamente diversi, direi, plurali rispetto a quello dell'amministrazione territoriale, cioè il Comune. Detto questo, il livello di maturazione di tutte queste idee direi che segna un salto di consapevolezza e di attualità quando il magistrato delle contrade affida a mio padre il compito di redigere un parere. Il parere viene redatto il primo marzo del 77, la questione è estremamente difficile, anticipa e chiude Marco Comporti, ci vuole anche coraggio e visione nel portare avanti un'idea, proprio perché non c'erano precedenti giurisprudenziali o idee che segnassero un cammino a livello nazionale e l'estensione della tutela del nome agli stemmi di persone che non sono fisiche era tutta da costruire. Di qui un parere che fu reso appunto il primo marzo del 77, di qui poi l'intervento al primo incontro dibattito con trade e territorio e di qui la prima sperimentazione di queste idee, nel caso che ricordava l'avvocato Martinelli della cartolina Asti Medievale. Ora è già stato detto, la cartolina forse passerà o è già passata, era Brunetto Golini che era un noto vero perché erano due fratelli che hanno sfilato per anni con i costumi della chiocciola, rappresentato in modo anche falsato. Chi agisce? Ecco, chi agisce in giudizio? Brunetto Golini è ovvio perché è la persona fisica la cui immagine, i cui segni distintivi sono stati alterati perché sono stati astratti dal contesto storico e riprodotti in un contesto tutt'affatto differente. Infatti quella domanda canzonatoria, ma quando hai corso il palio di Asti dice tutto, però poi agisce anche il consorzio non era ancora stato costituito, agisce in giudizio il magistrato delle contrade e agisce il comune, scusa, la contrada della chiocciola. Mentre il comune supporta dall'esterno e fa intervento in corso di causa. Intervento per aiutare, perché rappresentando gli interessi generali supporta le iniziative autonome di questi altri soggetti. Devo dire il pretore di Asti viene fulminato da questa ricostruzione e segue pedissequamente le richieste. La richiesta urgente è quella di sequestro, di sequestro delle cartoline e buffa anche la motivazione. All'epoca non c'erano poi queste motivazioni sfrenatamente commerciali come ci saranno poi Gucci, Moschino, Benelli, Fiat Punto e altre, le immagini stanno scorrendo. Ma c'era anche un po' di improvvisazione. Questo geometra Cesare Marchia, che era DC, ex sindaco e all'epoca di Asti, presidente del Coreco, il Comitato Regionale di Controllo, come si giustificò? Dice avevo dato a una ditta l'incarico di fare la pubblicità del palio medievale di Asti. Mi telefona lo stampatore e dice c'è rimasto un buco, perché infatti le immagini intorno sono tutte fedelmente dell'Asti medievale. Che cosa ci mettiamo? Marchia suggerì qualcosa che richiami un simbolo del colteo storico e quello disse ma io ce l'ho forse, ho un tamburino, potrebbe andar bene? Va bene, metti un tamburino, senza preoccuparsi di quale tamburino fu messo. Il pretore accolse la richiesta di sequestro subito, il 24 agosto del 77 e poi seguita la causa, la causa fu transatta, ordinando e qui ecco c'è il doppio binario, è significativa questa vicenda perché inizia il doppio binario, la diffida, la causa e poi la transazione. Poi molte altre vicende successive seguono un binario, agevolato, cioè un binario di fida e transazione, cioè piano piano l'accordo, la moral suasion prendono il sopravvento, ma prima bisogna anche un po' battere i pugni sul tavolo per affermare i diritti, per fissare dei confini, delle rispettive azioni. E allora gli accordi sono più o meno tutti di questo genere. Si ordina da una parte la distruzione del materiale che costituisce il plagio, la raffigurazione distorta delle immagini e dei segni distintivi, la pubblicazione della decisione in quotidiani, la stampa, la nazione, il Corriere della Sera nel caso di Uomo Vogue, eccetera, eccetera, e anche cominciano a fioccare alcune condanne patrimoniali, risarcimento dei danni. Nel caso furono solo 100.000 lire, ma nel caso Gucci che ricordevamo con l'amico Cappelli si arrivò a un risarcimento di 100 milioni di lire che rappresentavano la prima forma di finanziamento del consorzio. Aggiungerò altre cose, ma intanto... Sì, no, poi... No, no, sei stato molto chiaro, anche molto interessante, devo dire che molti di questi casi non li conoscevo, però in realtà con l'attenzione verso questa nostra fessa, verso il palio crescente, prende dimensioni incredibili, ovviamente di questi casi ce ne sono sempre di più. In caso anche Zeffirelli, quella è un'altra storia, insomma. Però l'attenzione verso il palio cresce tantissimo e ha nel 94 un anno di svolta per la gestione delle immagini televisive. E poi adesso arriviamo al marchio, però prima scusatemi, ho bisogno di vedere qualche immagine del nostro palio, soprattutto facciamo vedere le immagini del palio che ha vinto Andrea Mari, il palio del Drago del 2018, quindi vediamoli insieme e poi continuiamo la nostra chiacchierata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Poi ci chiediamo perché ci copiano, scimmiottano, no? ce l'abbiamo solo noi. Comunque, un passaggio importante è questo, si passa dalla difesa, no? Abbiamo parlato finora di difesa, giocare in difesa, ci copiano, facciamo le cause, chiediamo risarcimenti, a giocare in attacco forse. E viene questa idea, no? Di registrare il marchio. Il marchio che ci può tutelare, il marchio che ci può tutelare, che ci può promuovere e quindi si passa da difesa alla promozione da un atteggiamento attivo e non più passivo, che era quello che era stato finora. Ecco, io volevo dare la parola all'avvocato Michele Allegro che appunto ha seguito, che con lo studio di Roma segue in particolare tutta questa fase, una fase molto importante. diciamo dal 94, c'è la parte delle immagini, quindi poi arriveremo anche al 94, questa tutela, questo accordo per la tutela delle immagini, il palio e il marchio. Cosa succede, avvocato? Sì, questo risale a circa 20 anni fa e io come si sente dal mio accento e dal cognome sono estraneo a questo mondo e questi racconti che ho sentito da loro prima e adesso dai colleghi affascinanti e da questi racconti siamo stati presi e affascinati quando abbiamo cominciato il rapporto nostro con il palio che nasce appunto grazie a Stefano Maestrini che credo sia seduto da qualche parte lì e che abbiamo conosciuto perché Stefano all'epoca, siamo nel 2002-2003, quando ci siamo conosciuti per fare questo, era uomo d'azienda ai vertici di un'importante azienda italiana, gruppo di un gruppo multinazionale per il quale il mio studio lavorava e scoprimmo in quell'occasione che Stefano oltre che essere un grande uomo d'azienda era anche un senese appassionato e sanguigno con plasma al palio e con lui cominciamo a ragionare di come appunto si potesse passare finita la tutela appunto del palio da una tutela fatta appunto di difesa, solo difesa anche una forma invece di promozione usando ovviamente strumenti giuridici che potessero tutelare il palio in maniera adeguata e si cominciò appunto a ragionare di questa possibilità, della possibilità di registrare i marchi perché lì appunto si cominciò a pensare alla registrazione non solo del marchio del consorzio il simbolo, il segno del consorzio come marchio di impresa ma anche delle singole bandiere, delle singole contrate come marchi di impresa la cosa non era banale perché appunto il problema era si possono registrare come marchi di impresa cioè quindi marchi destinati ad un utilizzo commerciale, si possono registrare appunto segni araldici, simboli araldici quindi si è decisa che ci si poteva provare, lo facemmo e la cosa venne fatta andò bene insomma, andò bene e però voi non ne avete fatte 17, ne avete fatte 18 di marchi perché registriamo anche il simbolo del magistrato e il simbolo del consorzio di tutela palio come marchio di collettivo di garanzia quindi come marchio che doveva accompagnare la concessione poi licenza dei singoli simboli di contrada appunto come segno del fatto che chi, i soggetti ai quali il consorzio avesse deciso di assegnare l'utilizzo ovviamente non esclusivo di questi simboli per riprodurli su prodotti o su altro di vario tipo, seguisse e rispettassero criteri fissati appunto dal consorzio quindi il simbolo del consorzio come marchio collettivo di garanzia è dei singoli simboli delle singole contrade come marchi di impresa to cure e lì appunto si cominciò questa avventura appunto per intrecciare anche con soggetti estranei alla comunità senese un rapporto virtuoso di rispetto del simbolo per cui chi voleva accedere, attingere al patrimonio identitario del palio e delle contrade doveva necessariamente passare attraverso il consorzio che avrebbe fatto le sue valutazioni e concesso in tutela, in uso appunto il palio, il consorzio, il marchio del consorzio di tutela del palio Allora io poi vengo anche da Stegno Sensi però volevo andare prima da Anna Carli perché amministratore delegato che si occupava del marchio, quindi questa idea molto innovativa, molto importante che serviva anche, cambiava i rapporti anche all'interno della città quindi con l'esterno l'abbiamo visto, l'abbiamo capito e penso che sia stato ben accetto a tutti più o meno però ci sono delle criticità, come si è riusciti a far capire all'interno anche della città per persone che utilizzavano normalmente magari le contrade, abbiamo delle cose meravigliose ci sono dei manufatti fantastici, cosa cambia, che succede e come lo recepisce la città? Allora non a caso, diciamo soprattutto nell'intervento di Roberto Martinelli già nel 1992, dopo dieci anni, si diceva che le cose non erano semplicissime perché? Perché la registrazione intanto dei 18 marchi avevano dato un senso nuovo alla cosa perché intanto sorgeva questo soggetto che era il consorzio nato già prima ma con un'autorevolezza diversa, cioè le persone di solito quelle che si rapportavano all'amministratore del marchio erano imprenditori, artigiani o imprese individuali o anche grosse società che volevano utilizzare i colori delle contrade e gli stemmi per riprodurli in oggetti che poi dovevano avere una vendita diciamo sul mercato quindi diciamo una produzione di massa. Allora, senza la registrazione del marchio, sì forse su Siena l'autorevolezza del consorzio ci sarebbe stata ma quando si è trattato di avere rapporti con imprese che non erano senesi o addirittura erano interlocutori di livello internazionale avere avuto un marchio registrato dava al consorzio come dire una presenza autorevolezza, no? Appunto, ecco, i problemi che per oggi sono stati anche all'interno della città Primo problema, qual è stato? Proprio quello di intervenire con una cultura diciamo diversa, no? Un modo diverso di guardare al palio da parte del singolo contradaiolo non tanto quando era semplice contradaiolo ma quando era imprenditore che voleva riprodurre oggetti con immagini e colori del palio e quando gli è stato detto guarda che siccome c'è un marchio registrato noi questo marchio e questi marchi, cioè i 17, te li diamo ma però, ecco, devi riconoscere che siccome tutto questo avviene anche a tutela dell'immagine, delle contrade e della festa ecco, devi riconoscere che c'è un tuo contributo che va a favore di questi soggetti che poi in fondo sono quelli che ti fanno vivere anche l'emozione della festa tanti contradaioli l'hanno capito immediatamente ma alcuni non intendevano aderire a questo progetto dicono ma come? Io contradaiolo, io senese devo pagare somme che non erano somme ragguardevoli ma come? Devo pagare? Per riprodurre quello che è anche mio quindi il ragionamento, come dire, era quello di dirgli ma guarda ma te poi ne trai anche un profitto individuale non è solo un'immagine però non era facilmente compreso dall'esterno poi e soprattutto anche alcuni settori dell'artigianato artistico senese dicevano ma io sì, è vero, riproduco lo stemma e riproduco i colori ma lo faccio artisticamente sono un artigiano artista allora anche qui qual è stata la differenza? far capire che una cosa è l'artista che si ispira e quindi crea un'opera che poi però è singola cioè non viene riprodotta in massa ma se anche viene fuori un'idea a parte di un artigiano che però poi riproduce a livello diciamo di grandi quantità per la vendita quel prodotto non ha più quella caratteristica di opera artistica singola che ovviamente non deve avere l'autorizzazione del consorzio però nel tempo questa autorevolezza diciamo il consorzio se l'è conquistata intanto con i senesi quando c'è stato anche perché ha facilitato molto questo c'è stato un intervento di un'altra istituzione senese oltre il comune che ha avuto sensibilità verso questa storia e verso questa scelta e è stata in quel momento la Camera di Commercio perché la Camera di Commercio a quel punto ha accettato di fare un accordo con il consorzio per cui per tutti gli artigiani della provincia di Siena che riproducessero oggetti con stemmi e colori delle contrade il contributo al consorzio veniva pagato direttamente dalla Camera di Commercio poi a un certo punto c'è stata la riforma della Camera di Commercio non ha più potuto fare questo tipo di intervento a favore diciamo dell'artigianato della promozione anche dell'artigianato artistico e allora in questo caso si è dovuto rifare tutto un percorso riavvicinando uno per uno i singoli produttori per portarli ad essere come dire consapevoli ecco di doversi sostituire appieno a quello che era il ruolo della Camera di Commercio devo dire che insomma come in tutte le cose ci sono le contraddizioni ci sono le contraddizioni ci sono le contraddizioni ci ha voluto sicuramente tempo ma poi si è capito il valore e l'importanza si è capito il valore quindi direi oggi in massima parte c'è l'adesione a questo una cosa è stata veramente convincente nei confronti di molti senesi soprattutto nella parte degli artigiani senesi che riproducevano ceramiche il fatto che noi si sia riusciti a far pagare diciamo il contributo per l'uso dei colori e anche del marchio perché poi noi davamo anche il marchio quindi chi vendeva diceva è autenticamente un riferimento al palio è una cosa autentica quindi siamo riusciti a far pagare appunto queste imprese che hanno un nome ovviamente deruta nel campo della ceramica ma soprattutto avevano un grande mercato internazionale vendevano negli Stati Uniti e allora qui dico grazie anche allo studio Allegro come siamo intervenuti allora quando i senesi hanno visto che facevamo pagare anche i non senesi con cifre molto più consistenti che tornavano poi al consorzio tornavano a casa e poi anche altri esempi ci sono stati per esempio della collezione Bulgari non so se ci sono delle immagini dietro devo dire devo dire che l'ausorevolezza del marchio poi ci sono venuti a cercarvi ecco ecco vediamo i gioielli meravigliosi quindi c'è stato Bulgari e devo dire ecco questo invece per Cosi Papi credo che molti priori ancora in carica o ex priori se ci sono si ricorderanno della magnifica mostra fatta in omaggio anche alla maestà in Sala del Mappamondo in cui per Cosi Papi questo orafo artista aveva riprodotto gioielli ispirandosi stanno scorrendo anche ora al palio fino a farle arrivare ad una mostra a Bruxelles e devo dire in quell'occasione arrivò a Bruxelles veramente lo spirito del palio quella fu veramente una tutela che accompagna cioè la conoscenza del consorzio quello che fece il consorzio in quel momento insieme al magistrato che tra l'altro in quel momento il rettore era proprio della contrata del Bruco ecco e che cosa avvenne che addirittura la partecipazione delle contratti dei priori fu tale per cui tutti i priori sanno che noi quando facciamo il priore abbiamo di solito insomma questo privilegio della contrata che ci offre il fazzoletto con una fattura particolare sicuramente sempre ecco e i priori consentirono a inviare i loro fazzoletti a quella mostra proprio per poter dimostrare il valore che l'attaccamento diciamo ma anche il senso di identità si poteva manifestare sia con quello che i senesi offrivano direttamente sia con quello che i senesi erano riusciti a fare diventando fonte di ispirazione anche per un grande artista artigiano allora questi poi c'è stato il caso invece della Sony che è stato ritirato in quel caso non so ci sono delle immagini anche io sinceramente non lo sapevo ricordiamolo brevemente vi ricorderete tutti insomma che c'era questo videogioco perché insomma in quel caso ci fu davvero un lavoro importantissimo in cui si faceva una ovviamente una gara di auto in piazza del campo venivano fatti i pistop ecco e nei momenti del pistop si dovevano vedere le bandiere delle contrade era una cosa proprio bruttissima anche dal punto di vista estetico perché ecco un'altra delle cose che ha contraddistinto il marchio la qualità noi come marchio abbiamo registrato ovviamente colori e simboli ma non è che si poteva garantire la qualità dell'elaborato e allora lì è subentrato un altro aspetto cioè valeva il rapporto personale e vi devo dire qualche volta anche un po' d'astuzia cioè quando si vedevano degli oggetti veramente non accettabili sia per il loro significato che per il modo che erano fatti la cosa che mi veniva spontanea a dire ma guardi di questo non glielo consiglio non avrà mercato diventavo consulenti era il modo gentile e carino per dire non te lo boccio non lo faccio e con la Sony invece abbiamo avuto un'avvertenza a livello internazionale direi no perché con l'Inghilterra e la Sony avendo anche un danno quindi non abbiamo avuto noi una remunerazione ma la Sony ha avuto un danno perché ha dovuto ritirare il prodotto già confezionato già presentato non ce ne eravamo accorti proprio perché c'era stata la presentazione e ha dovuto rifarlo ex novo allora adesso veniamo alle immagini qualcosa a me anche molto cara che mi riguarda con la Rai cambia nel 94 c'è un po' una rivoluzione racconta un po' segno intanto lasciami dire grazie soprattutto a chi è intervenuto ha dato diciamo orgoglio a questo a questa manifestazione grazie anche se non soprattutto ancora al presidente Morelli e a tutto il consiglio che hanno sentito il bisogno di raccontare alla città e la città seguirà le immagini e il parlato del consorzio tutela palio che per molti è stato accennato dagli storici è qualcosa di non ancora ben conosciuto io credo che questa sia il quarantennio sia anche l'occasione per tornare agli anni forti della crescita esponenziale delle competenze e dei problemi e io insieme ad altri sono cascato più nei problemi che non nelle competenze diciamo che siete nati per quello per risolvere i problemi scusate certo ci mancherebbe ma volentieri perché poi si aiuta la città voi qua soprattutto su questo palco è certo si aiuta la città e nacque nel 1994 accennavi te l'agenzia del palio per volontà di Omar Calabrese che poi detto così sembra qualcosa di privato niente altro era che obbligare chiunque volesse riprodurre qualcosa della nostra festa ancora non c'era il marchio si doveva rivolgere al comune e per esso il comune demandò al consorzio tutela palio la competenza fu uno shock anche per i senesi perché chiunque anche di noi rubicchia l'immagine a destra e a sinistra durante la corsa i fotografi ufficiali le pubblicavano nelle bacheche agli angoli della città e quindi fu un po' così uno sconcerto generale vedere che non si poteva più fare se non con l'autorizzazione del consorzio questo però richiamò anche un percorso inverso cioè l'interesse dei grandi media e nel 1995 io ancora non ero nel consiglio ma lo ricordo bene facevo il priore di una contrada e noi tutti penso o quasi forse comporti non e lui è il nostro grande tecnico successe che questa nostra esposizione esterna comportò l'interesse di tanti di tanti soggetti il primo soggetto interessato fu Mediaset e nel 1995 avemmo il piacere tra virgolette di avere tutta la redazione di Canale 5 a Siena e trasmise per due giornate con il capo struttura che era Mentana la piazza del campo e addirittura dalle loge della mercanzia tutto il palio non è che venne bene però insomma diciamo che erano dei neofiti poi sono scomparsi il Rai viene meglio è ovvio è semplicissimo poi c'è una lunga tradizione voglio dire il primo collegamento che ha fatto la Rai in assoluto era radio è stata con il palio di Siena in assoluto il primo collegamento io non sarò politicamente corretto cioè tutto ciò che c'è da dire anche della Rai io lo dirò perché altrimenti io sono prima senese io sono prima senese ma certo fingerei di non essere senese contradaiollo e dirigenti di contrada quindi scomparvero un po' tutti però questo richiamo l'attenzione e qualche volta direi troppa attenzione perché cominciarono le televisioni nazionali la Rai perfezionò il suo programma inserì anche delle delle registrazioni con noi più o meno concordate e procedemmo verso questa divulgazione di questa festa che piacque un po' al mondo perché poi diventammo oggetto delle attenzioni del mondo ecco da qui in poi si scatenò poi e ora arriva il 2002 quando insieme a Maestrini e a Bimbi iniziamo un lavoro veramente difficile intanto modificiamo lo statuto dopo che il marchio era stato approvato si sentì il bisogno di creare due settori marchio e immagine anche perché era evidente che si trattava di due cose diverse ma particolarmente uguali perché tutti difendevano tutelavano e promuovevano e questa è la parola che qualche volta ai 6 mesi dannoia il nostro statuto all'articolo 2 promuove quindi tutte ciò che sono iniziative anche a costo per chi le fornisce tutto ciò che viene offerto dal consorzio dalle contrade e dal palio è una tutela e una promozione forse questo non è stato ancora ben capito e ben vengano dibattiti come questo la RAI incominciò a capire che questo evento poteva dargli un certo lustro e firmammo dei contratti grazie allo studio all'iegro io non finirò mai di ringraziarli in RAI straordinari sia per l'aspetto economico sia per le garanzie per le tutele per il palio stesso perché ad esempio in un contratto fatto mi sembra nel 2007 riuscimmo a strappare il diritto di replica che sembra detto così una cosa scontata cioè qualora la RAI o altri interlocutori sempre attinenti alla RAI avessero distorto l'immagine la storia tutto ciò che c'è sotto la nostra cultura poteva essere da parte del consorzio diciamo replicato attraverso una intervista che coprisse gli stessi tempi nelle stesse edizioni telegiornale o rete per raccontare quella che era invece la versione di noi senesi e questo ci aiutò molto perché nel 2011 immagino tutti ricorderete quel palio tragico non per gli eventi finali almeno per la mia contrada quel palio tragico che vide la morte di un cavallo Messi che corriva per la chiocciola quando al secondo giro della quarta prova con Sgaibarre sopra franò il cavallo purtroppo lo perdemmo il Santino in qualche modo ebbe dei danni ma li superò bene durante la diretta praticamente i giornalisti che provvedevano a raccontare l'evento non dettero molto risalto alla cosa mi sembra che sia del tutto dovuto successivamente appena mezz'ora dopo il TG2 e questo si è ripetuto tragicamente nel 2019 aggredì la festa con tutta una serie di osservazioni non pertinenti voglio essere buono perché la tutela del cavallo a Siena non esisteva ora voi sapete tutti che da circa 20 anni c'è un protocollo molto stringente per quanto riguarda le dimensioni del cavallo per quanto riguarda le terapie che possiamo fare che non possiamo fare non sto a raccontarlo qui perché tutti lo sanno beh questo ci sembra un affronto che meritava una risposta e allora grazie così anche all'aiuto di Donatella la dottoressa che curava lo sport la Scarnati riuscimmo a fare una registrazione il sottoscritto con l'allora rettore del magistrato delle contrade ed era il il priore del drago e beh insomma qui naturalmente i nomi verranno e comunque Marco Lonsi riuscimmo a raccontare la verità questa registrazione non andò come era previsto nello stesso telegiornale con la stessa lunghezza e ci dovemmo raccomandare però sancì un principio dopodiché questo principio andò avanti per alcuni anni e poi si è perso per strada e non certo per colpa di chi ha fatto contratti successivi perché la RAI da un certo punto in poi cioè circa dagli anni 9-10 ha cambiato atteggiamento mentre Siena cambiava atteggiamento nei confronti della RAI accusando la RAI stessa di non essere così perfettamente allineata con la storia con la civiltà della nostra festa e qui noi potremmo aprire un dibattito con tutti i contradaioli sull'utilità delle telecamere in piazza del campo sì le vogliamo non le vogliamo c'è stato di tutto e poi le assemblee hanno deciso di andare avanti con le riprese in diretta da quel punto poi dicevo la RAI si è resa conto che forse c'era una crescita del sentimento antipalio in generale perché cresceva secondo la RAI la sensibilità nei confronti dei cavalli e degli animali in generale e noi si veniva accusati di non avere la giusta sensibilità nei confronti dei cavalli bestemmia più grossa di questa non la potevano dire e piano piano beh però credo posso fare l'avvocato difensore tutti avvocati io credo che la RAI non abbia mai accusato la città di avere poca sensibilità nella zona del cavallo credo che ci fossero delle sensibilità diverse politiche e non all'interno della RAI arrivavo proprio a dire questo Arrivavo a dire che all'interno della RAI ci sono due tre quattro cinque anime c'è l'anima che capisce perfettamente di che cosa si tratta e c'è l'anima soprattutto da quando divenne ministra non mi piace il termine ma una certa signora da quel punto in poi l'atteggiamento della RAI nei confronti del palio è cambiato e quindi abbiamo dovuto rincorrere per poter fare dei contratti e credo che chi ha fatto gli ultimi contratti io non c'ero più abbiamo concluso nel 2013 il nostro lavoro abbia durato sette camicie di sudore per poterlo concludere poi ovviamente si arriva sempre a una sintesi ci mancherebbe altro anche grazie a chi per il consorzio cura gli interessi perché fare un giro rapido perché questo è sicuramente un argomento che interessa a tutti perché si parla anche poi di futuro nel senso tu dicevi il fatto che i senesi sono gelosi delle loro immagini alcune volte ma è meglio avere una vetrina importante che uno gestisce al meglio cioè voi i senesi il consorzio gestisce al meglio perché io quando sono arrivata a fare la telecronaca del Palio di Siena io ho trovato mi ricordo avevo Nicoletta Fabio e Paolo Loncini che avevo visto qua la mia coppia che mi ha iniziato un po' al consorzio c'era un'attenzione un dialogo costante i filmati vengono fatti voi in un modo professionale io posso dire sempre migliori anche di qualità che cercano di raccontare veramente che cos'è questa festa non discuto la diretta con le riprese però no no ma c'è un generale è il dopo la rete è andata sempre bene parlo del fatto di gestire di raccontare giusto giusto di raccontare in un modo migliore scelto da voi condiviso da voi che racconti la verità una verità oggettiva perché che ci sia sulla della del cavallo che ci sia un amore la passione attenzione voglio dire c'è più amore verso il cavallo quasi e verso il fantino se cade il fantino si rimette a posto il cavallo invece c'è una passione un'attenzione sfrenata che oggi come oggi se te non lo metti quello che gira gira grazie al telefonino le immagini rubate e esce sui social il peggio del peggio quindi e qui vado dall'avvocato poi rifacciamo all'egro cioè come si gestisce il futuro questo è un discorso che secondo me vorrei un rapido risposta da tutti perché qui parliamo di futuro anche no come si fa con i social con questi video rubati dove si vede il peggio del peggio e che viaggia alla velocità della luce quindi com'è che ci si protegge e qual è forse la cosa migliore cosa da fare per tutelare la festa non fare non fare si sente male non so se ci siamo prova ecco non fare nel senso che appunto internet è è uno spazio tendenzialmente anarchico e quindi ci viaggia di tutto per cui cercare di contenere certe manifestazioni direi quasi ridicolo puerile ha senso invece starci in internet appunto monitorare eccetera lì dove è possibile fare delle cose farle ma quando si ha di fronte un interlocutore noto individuato in qualche caso infatti siamo intervenuti per esempio qualche anno fa diversi anni fa riuscimmo a farci riassegnare un nome a dominio che portava il nome appunto del palio di Siena registrato però da una associazione ambientalista o sedicente tale che invece lì in quel sito denigrava il palio con immagini e così via scorrendo in quel caso lì riuscimmo perché avevamo la possibilità di farlo avevamo appunto un soggetto un interlocutore esatto e dovevo fare un'azione e riuscimmo però appunto facci riassegnare il nome a dominio o in altri casi siamo intervenuti sempre in internet dove ci sono state immagini del programma del nostro programma del consorzio perché appunto quelle immagini nostre non possono essere utilizzate e quindi anche lì si intervenne con successo nei confronti di una multinazionale importante Nestlé che pubblicizzava i suoi prodotti su internet con immagini del palio eccetera ma in tutti gli altri casi appunto di critiche anche aspre anche accese anche per la sensibilità della comunità estenese offensive ecco cercare di contenere questa questa onda che monta è difficile e non ha senso ha senso invece starci e fare delle operazioni attive appunto in internet come è successo qualche anno fa dove se non ricordo male era con con Paolo Leoncini che vedo lì e si fece una bella operazione che ancora va con Google appunto si Google Map che aveva scelto una biblioteca di Google c'è una cosa meravigliosa sono poche città c'è Siena esatto e altre città appunto loro offrirono questo spazio e quindi in quello spazio gestito dal consorzio si racconta la festa appunto come piace a Siena e quindi questo è quello che a mio avviso si può fare si deve fare in internet diversamente appunto come diceva lei un attimo fa appunto internet tutto viaggio in internet viaggia tutto velocemente quindi cercare di contenere o di come dire combattere queste manifestazioni aspre di critica ha senso non ha senso perché si darebbe spessore a così a voci alla fine che corrono via in un attimo invece così le si fissa le si ferma e si dà importanza a ciò che invece importanza non deve non deve non deve avere il futuro il futuro ma questo bisogna continuare così sul futuro bisogna a proposito di monitoraggio e di parlavo l'altro giorno con segno e di attenzione a certe cose e di qualche settimana fa la notizia era sui giornali della modifica dell'articolo 9 della costituzione e quindi una modifica del principio fondamentale della nostra costituzione e dove appunto secondo questa modifica l'articolo 9 dovrebbe essere modificato nel senso che la repubblica protegge tutela l'ambiente e protegge fra le altre cose gli animali ecco se questa cosa fosse inserita in costituzione che fine farebbero quelle norme che invece salvano ci salvano dal codice penale sul maltrattamento degli animali e così via scorrendo sulle sevizie agli animali quindi queste iniziative secondo me vanno tenute in considerazione vanno monitorate una battuta segno una battuta per ciascuno una battuta circa il futuro ma io credo che siamo dalla parte della ragione e quindi come tale non possiamo che vincere la battaglia contro gli avversari gli avversari sono tantissimi sono agguerriti però tutte le volte che si sono confrontati direttamente voi manifestazioni a Siena o voi così battaglie in tribunale hanno sempre avuto dei discreti scapaccioni per cui noi ci vantiamo di essere dalla parte del giusto e continuiamo sulla nostra strada come continuiamo sulla nostra strada se mi permetti proprio una parentesi velocissima i documentari e i film che sono poi quelle che danno l'immagine maggiore più completa della nostra manifestazione hanno subito negli anni una variazione incredibile basta pensare a Zampa con la città del Palio nel 1957 e poi il Burbero non ne parliamo parlo al pubblico di Contrada che conoscono benissimo quale scempio è stato fatto siamo invece arrivati ad esempio l'ultima cosa fatta al documentario di Piffe sul Palio che è una cosa straordinaria cioè che è veramente il Palio raccontato ce l'abbiamo ecco raccontato non in punta di forchetta se vogliamo ma con il cuore cioè partecipando alla vita di Contrada verificando quali sono i valori ma sul posto e non leggendoli e allora raccontandoli come sa fare Piffe è inutile lo sappiamo chi è un grandissimo registra un uomo che non è al soldo di nessuno e è venuto a Siena impreparato ma ha capito perfettamente ha fatto uno dei documentari più belli insieme a Bianco, Rosso e Celeste del 1962 di Emmer che sono secondo me i punti focali nel mezzo c'è tante cose anche Maurizio Costanzo si è cimentato con il Palio di Siena ma con scarsa fortuna e quindi continuare a raccontare a chi viene a Siena 007 ad esempio è stata una battaglia è stata una battaglia grazie all'avvocato loro sono forti sono stati grandissimi perché avevano dietro uno studio inglese fantastico Mestiere Cinema era il produttore questo B22 ci ha fatto impazzire sono venuti a Siena prevedendo che allora durante il corteo storico il protagonista usciva bravo usciva da piazza dalla pista dall'anello di Tufo si mischiava insieme ai monturati e insieme a chi lo rincorreva si vagava faceva lo slanometro nel corteo storico hanno rimediatato con un'altra soluzione o meglio finito il Palio i contradioli secondo loro vanno a cena nell'onda dovevano andare loro a tavola e passava sui loro tavoli passava il protagonista con un cavallo e un fantino e un cavaliere che lo inseguivano quindi queste cose è stato difficilissimo superarle a capire non si poteva fare non era Palio perlomeno non era il nostro Palio l'ultima cosa e poi mi zitto scusate era volevano in tutti i modi produrre immagini senza sottoporcele e poi montare il grezzo e andare avanti con la produzione del film e no non ci stiamo voi siete forti avete anche tanti soldi ma insomma non è che la cosa ci preoccupi affrontarvi l'abbiamo affrontati sul piano della verifica e si ritorna al discorso di prima abbiamo preteso di vedere tutto a parte eravamo sul set insieme all'allora presidente orlandini eravamo sul set quasi tutti i giorni abbiamo voluto vedere le immagini tutto abbastanza bene alcune le abbiamo escluse poi abbiamo voluto vedere il finito non più il grezzo e era successo semplicemente che finiva il Palio scoppiava al mortaletto e due minuti dopo rincominciava il corteo storico e questo voi se usciva una cosa di questo genere mi immagino i contradeioli che cosa ci avrebbero fatto abbiamo pretesto di toglierlo e qui è stata una grossissima battaglia superata credo con parziale soddisfazione perché poi non tutti siamo rimasti contenti di 007 una battuta il futuro che ci aspetta il futuro io credo che dobbiamo continuare a pensare come abbiamo fatto nel passato il Palio vive perché è ancora una cosa sentita vissuta nella contemporaneità il Palio è vita non è una tradizione che si rinnova e allora guardando al futuro come abbiamo fatto in passato che cosa abbiamo fatto in passato alla curva di San Martino abbiamo messo i materassi che si usavano nella formula 1 allora credo che la sensibilità all'amore che abbiamo per la festa l'attenzione a quello che ci può offrire anche il futuro sul piano della ricerca e anche far valere questa sensibilità che noi abbiamo nel rapporto con l'animale credo che tutto questo ce lo dobbiamo coltivare rafforzare e affrontare il futuro sempre rendendo la nostra forza la nostra corsa e la nostra festa presente nella contemporaneità con l'amore il coinvolgimento e anche la manifestazione di civiltà che il palio è attraverso le contrade noi sopravviveremo anche nelle immagini del palio se faremo capire che Siena è grande non solo perché fa il palio ma è grande perché ha le contrade bravo è vero scusate un attimo applauso perché tanta passione contagiosa no e poi ha detto una cosa importante si è detta ora prima di dare la parola agli altri miei due avvocati qua presenti no una battuta è che giocare di attacco di promozione le immagini sono importanti ricordiamo che il consorzio dal primo di dicembre non è stato fermo ha fatto questo sito molto bello dove ci sono dei video che saranno sempre più importanti perché saranno anche il biglietto da visita che offriremo e che stiamo offrendo oltre all'immagine che già abbiamo agli altri quindi far viaggiare le immagini giocare di attacco io qui vedo tante professionalità e tanta passione volevo anche ricordare che voi lavorate tutti pro bono in modo il consorzio tutti i priori tutta la passione lo fate per passione non lo fate certo per soldi non per stipendi come il consorzio non ha scopo di lucro cioè qualcosa è importante ricordarlo perché non è banale perché io ho visto giorni del palio vedo sempre sto lavorando ultimamente appunto con Fiamma Cardini cioè la vedo uno è avvocato con una professione però basta dalla mattina alla sera a litigare a trattare a guardare a battagliare come avete fatto e come fate tutti tutto il tempo voi ecco quindi un ricordo dell'importanza avvocato Roberto per il futuro un impegno per il futuro continuare così continuare d'attacco e non di difesa ma cosa dire di più di quello che hanno detto in precedenza un tweet si direbbe oggi fammi un tweet no no quello che posso dire è che l'unica cosa che ci difende è che usiamo il cuore usiamo il cuore perché ciò che facciamo non lo facciamo come elemento esterno rispetto ad una vita diversa ma quello che facciamo lo facciamo perché fa parte della nostra vita quindi questo è il mezzo che dobbiamo fare difendere la dignità la dignità è un fronte di chiunque anche all'interno di chiunque volesse mettere in discussione questo che è non l'unico modo di vivere ma che è un momento importante di ciascuno di noi di ciascuno di noi che vuole che evidentemente vuole e crede nel palio il futuro è nell'amore che abbiamo nell'amore che abbiamo e nella forza che avremo di defenderci ci sono modi tecnici ce l'hanno detti ma a monte dei modi tecnici ci deve essere la passione altrimenti non funzionerebbe niente ma funziona perché la passione si è la passione resta e ciascuno di noi vive questa bellezza e ringrazia di averla potuta gustare bellissime vero un'ultima una battuta quale lezione trarre da questa storia soprattutto per il futuro ma battute è difficile farle dopo le bellissime cose che sono state dette io ripartirei dal fatto che Siena ha una unicità e è l'importanza delle contrade noi insistiamo tanto su aspetti anche giuridici un po' formalistici astratti la contrada come persona giuridica di antico diritto che serve per non storicamente per non pagare le imposte di successione e tante altre cose ma se ci si pensa Siena ha una realtà unica al mondo è quella di avere 17 enti secondo molti pubblici in cui si articola il suo territorio bisogna ripartire da lì la vitalità della contrada è la base è nella contrada che si sviluppano le passioni e le idee paradossalmente più quando la contrada resta fuori dalla piazza cioè come in queste occasioni contro intuitivamente più quando non si corre il palio come in questi due anni che non quando ci si assiepa tutti intorno alla piazza intorno alla carriera non è quello il nostro futuro il nostro futuro è recuperare momenti sereni di riflessione perché è inutile buttarsi nel lagone come diceva giustamente Allegro non dobbiamo inseguire l'anarchia dobbiamo rappresentare un punto di vista serio affidabile competente come tutte queste persone che abbiamo oggi ricordato ci hanno insegnato che si può fare e il futuro è solo la prospettiva di un'idea che ha avuto successo nel passato e ogni stagione ha la sua sfida non vedo perché essere pessimisti insomma prima di richiamare per un saluto conclusivo anche il nostro presidente il presidente del consorzio volevo spero che questa chiacchierata non so per me è volato il tempo sia servita a tutti per ricordare l'importanza di questi primi 40 anni di questi primi 40 anni di una storia importante condivisa e di tutte le cose che sono state fatte per avere anche un aiuto una prospettiva per il futuro e comunque sarà abbastanza complicato è inutile che ce la facciamo facile sarà un futuro lo è è tutto diventato più complicato ormai quindi io chiamo prego il presidente del consorzio Roberto Martinelli per un saluto un saluto finale io ringrazio tutti voi oh Dio scusami Gianni Morelli scusatemi però se già scusate oh Dio scusami Gianni Morelli è un onore essere abbinato a Roberto Gianni Morelli scusate anche io mi sono emozionata mi sono emozionata io ho un cuacervo di emozioni questo padre non so se vengono si sentono vero si sentono allora niente permettetemi di concludere con alcune considerazioni riepilogative anche di carattere prospettico anche se è già stato detto tanto tanto non solo in termini di quantità anzi soprattutto di qualità prima di parlare di quello che praticamente sono le nostre considerazioni conclusive vorrei mi viene venuta a mente prima una domanda che tutti si fanno quando si parla del consorzio ma il consorzio che fa ecco loro hanno risposto sotto due aspetti significativi il primo materialmente su quello che fa ma la risposta vera permettetemi l'hanno data grazie alla passione al trasporto all'approccio che loro hanno avuto e hanno dimostrato tuttora l'attaccamento di questi signori che hanno nei confronti del mondo contraiolo che tuttora si sente si percepisce per cui permettetemi di fargli un applauso generale a loro mirato grazie di cuore non solo per la preparazione per come siete arrivati ma anche per quello che ci avete trasmesso ci sono molte delle battaglie che abbiamo percorso in questi 40 anni di vita del consorzio avete visto sono attuali attualissime naturalmente in questi decenni di pari passo all'evoluzione della società e delle modalità comunicative perché di questo non si parla si è evoluto anche il ruolo e l'azione del consorzio che è stato chiamato a controllare agire contro chi utilizza impropriamente la nostra immagine il fine primo però è stato e resta questo deve essere chiaro ci piace sottolinearlo quello di agire appunto a tutela della peculiarità e del prestigio della nostra festa che ha vantiamoci pure sia nel panorama culturale e sociale italiano peculiarità però che non vuole essere espressione di autoreferenzialità questo no al contrario però c'è conosciuta a livello nazionale basti pensare a recente percorso del ministero di beni e attività culturali portato avanti dalla professoressa ballacchino e prossimo si spera anche alla conclusione per riconoscere il palio come bene culturale e immateriale dello stato tutelare l'immagine della festa e garantirne un corretto utilizzo da parte di chi opera in ambito commerciale porta in alcuni casi se detto anche ad un'entrata economica richiedendo noi per primi un contributo equo non esagerato a quegli operatori che intendono però sfruttare dell'immagine a fini e punto commerciali per noi il fine primario anche in queste operazioni resta comunque quello della tutela e non la ricerca di un profitto di un ritorno economico in più occasioni abbiamo avuto la forza di rifiutare quando l'operazione proposta non risultava decolosa nei nostri confronti vi porto un esempio l'ultimissimo calzante è quello delle mascherine voi sapete che hanno proposto di tutto e di più sotto sotto questo aspetto per noi poteva rappresentare un vero e proprio business ma il diniego fermo spontaneo unanime del magistrato e delle contrari appunto ha fatto capire qual è la nostra posizione di fronte anche interlocutori che comprendevano difficilmente la nostra posizione però vi garantisco che è andata così quindi questa è una dimostrazione pratica di quello che i nostri amici hanno detto stasera le entrate oltretutto quelle di cui si parlava sono esclusivamente destinate sia a sostenere la struttura del consorso stesso che a regolare servizi per le contrade basti pensare all'ultimo progetto quello della città dei mestieri e c'è uno spazio che gestisce dove si sviluppano e si creano formazioni attività artigianali artistiche tutte legate al mondo delle contrade del palio un investimento parliamoci chiaro per il futuro dei nostri ragazzi ma oltre a questi aspetti che potremmo definire tradizionali il consorso si sta adoperando per affrontare al meglio le nuove sfide di cui parlava soprattutto l'avvocato Alliegro in particolare negli ultimi anni complesso difficilissimo è stato il crescente rilievo che ha assunto l'utilizzo della massa del web sia per quanto riguarda gli aspetti comunicativi sia per l'utilizzo commerciale del prodotto inteso prodotto palio e contrada si tratta si tratta di un contesto sociale e comunicativo in continua e frenetica evoluzione molto diversificato e di grandissime dimensioni direi indefinite dimensioni il consorso naturalmente è proiettato ad affrontare questa sfida è difficile questa sfida ma non non si può eludere non ce lo possiamo permettere limitare l'intervento del consorso solo all'azione di reazione a improprio utilizzo dell'immagine sarebbe insufficiente sicuramente inefficace significherebbe solo subire quanto e tanto di negativo la rete è capace di produrre per il consorso invece deve capire bene approfonditamente questi fenomeni analizzarle la natura e la complessità e approfittare questo sì anche delle opportunità positive che comunque la rete può offrire è un impegno questo imprescindibile al fine di ottenere migliori risultati della finalità della tutela che noi ci sentiamo di prendere per essere efficaci in questo campo crediamo fortemente che appunto la strategia migliore sia legata a quella di proporre azioni attive promozione positiva come è stato detto finora da un lato offrire spazi di informazione sulla nostra festa completi ed esaustivi attraverso il web da un altro produrre direttamente noi contenuti multimediali in forma autonoma o collaborando direttamente con produzioni di alto livello a tal fine diviene fondamentale avvalersi sempre di più di professionalità esterne al consorzio che supportino queste azioni e che conoscano profonditamente più di noi profondamente più di noi il settore della comunicazione multimediale solo per fare alcuni esempi delle azioni che stiamo mettendo in campo segnalo la recente reazione del sito di cui si parlava prima inaugurato il primo dicembre dello scorso anno che mira a una moderna e dinamica comunicazione verso senesi e non della peculiarità della nostra festa oppure la produzione proprio di contenuti multimediali da poter essere divulgati via web ne vedremo uno appena finito il mio intervento o ceduti a chi chiede di rifondere l'immagine del palio per le proprie finalità comunicative o come detto commerciali inoltre la collaborazione attiva con aziende sempre di alto livello sia nel settore della comunicazione che commerciale basti pensare alla gestione con la RAI della diretta del palio che di fatto garantisce una produzione che ricordo essere improprio nella quale ci impegniamo tantissimo oppure il rapporto con la produzione di fiction che hanno girato la nostra supervisione con il docufilm Palio di Cosima Spender oppure il rapporto come si diceva prima con Google Art che rappresenta un canale di rilevanza mondiale grazie al quale noi possiamo comunicare e trasmettere e trasferire l'immagine della nostra festa insomma un consorzio per chiudere che ha davanti a sé sfide complesse in continua trasformazione ma un consorzio che deve e vuole essere pronto per l'affrontarle e sta mettendo ci proviamo ve lo garantisco in campo nuove strategie e azioni a tutela della nostra meravigliosa festa grazie grazie Gianni grazie 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 della ospitalità di questo posto meraviglioso grazie di questo ultimo discorso e di aver raccontato veramente bene che cosa è il consorzio per la tutelia del Palio di Siena tu hai detto che adesso ci sarà un video ringrazio tutti voi ringrazio anche Dario Di Prisco che ha fornito queste bellissime immagini grazie a tutti godetevele e buona serata grazie buona serata a tutti grazie Grazie. 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 Grazie.